Allora, ho deciso di fare questo video perché tanto ne avrei dovuto parlare domani nelle pagelle, quindi magari le pagelle di domani saranno un pelo più brevi, ok? Però vado ad inserire quest'altro contenuto che sarà appunto la parte sostitutiva delle, scusate la ripetizione della prima parte delle pagelle. Perché ero qua che editavo la live reaction e mi sono ascoltato la conferenza stampa di Allegri su The Zone del post partita e devo essere sincero non mi è piaciuta. Allora, su Allegri devo dire un paio di robe, cioè che non mi era piaciuta nemmeno la gestione di Delete dell'altro giorno in conferenza stampa. L'ho accennato su Twitch nel pre-partita, poi ho detto ne parleremo nel dettaglio. Io credo che Allegri non abbia ancora capito chi è Matais Delete, ok? Intanto prima di tutto faccio una premessa. La Juve non è questa. La Juve oggi è penultima, ok? La Juve o terz'ultima pare al Cagliari. Siamo in zona retrocessione, ad oggi saremo in Serie B. Ma la Juve non è questa. Non vi dico che la Juve sarà la squadra che vincerà lo Scudetto, perché ad oggi sarebbe una prospettiva un po' troppo positiva. Ma vi dico che secondo me la Juventus può tranquillamente classificarsi alla prossima Champions. Anzi, mi sbilancio. Secondo me la Juventus si qualificherà alla prossima Champions. Ok? E dirlo adesso credo che sia una cosa veramente importante per farvi capire che io credo in questo gruppo. Sono dell'idea che questa squadra non sia la più forte della Serie A, non sia più forte dell'anno scorso, sia una delle più deboli nell'arco degli ultimi dieci anni, anzi, dirlo di più, la più debole, più scarsa a livello di Rosa negli ultimi dieci anni. Ma credo che arriverà in Champions. Così mettendo a parte un po' di commenti di qualcuno che potrebbe chiedermi queste cose. Non mi è piaciuto Allegri Sud Elite ieri, perché secondo me non ha ben capito che tipo di giocatore ha in mano. Questo non è un ventenne che arriva alla Juve e ha bisogno di fare esperienze. Questo è un giocatore fatto, completo. Questo è già un giocatore super determinante. Mi è piaciuto il parallelismo con Chiellini, dicendo che Chiellini stesso alla sua età non era il Chiellini di oggi. Ok, Madrid è pronto. E aggiungo in questa Juve, ok, che è terz'ultima in Serie A, non può non giocare titolare Mattheis Elite. Come non può non giocare titolare Federico Chiesa. Ok, queste sono due cose che devo mettere ben in chiaro. Se Edelite comunque fino adesso aveva comunque giocato, Chiesa no. E Chiesa sarà davvero il giocatore che ti cambierà la stagione. Sarà il giocatore che cambierà la faccia alla Juve, perché è un giocatore troppo importante per la Juve per rimanere in panchina. E Allegri non so se ancora non l'ha capito, non so se ancora non gli ha trovato il posto, non so se ancora ha dei dubbi su Federico Chiesa, ma Chiesa e Edelite sono due giocatori indispensabili per questa Juve. Ma veramente che ti cambiano la squadra. E ve lo dico perché c'ho un anno di Chiesa sulle spalle di esperienza, sapendo chi è Federico Chiesa, è due anni di Edelite. E ho visto che anche nei momenti di difficoltà questi giocatori sono pronti per aiutare la Juventus. Ci sono giovani e giovani. Chiesa e Edelite sono giovani pronti per essere titolari. Allegri nel post partita dice Ho sbagliato i cambi. E lì ero contento perché anche secondo me sono stati sbagliati i cambi. Perché Dybala io non l'avrei tolto. Perché Dybala veramente ti sta facendo la partita. Non l'avrei tolto nemmeno Morata, ma si è fatto male. Siamo stati obbligati a cambiare e Moise Ken non ha assolutamente fatto quello che ha fatto Alvaro Morata per la squadra. No. Allegri dice Sono arrabbiato perché negli ultimi 15 minuti la squadra non ha giocato come volevo. Io dico, secondo me, ben prima degli ultimi 15 minuti. Abbiamo giocato i primi 45, nemmeno tutti, se devo essere sincero. Ma comunque nel primo tempo abbiamo abbondantemente fatto il nostro. Abbiamo palleggiato, ragazzi. Siamo andati veloci, abbiamo giocato i triangoli. C'era tecnica. Anche Bentancur, che notoriamente non è un palleggiatore, sembrava il Bentancur dell'anno di Sarri, nel primo tempo. Un buonissimo Bentancur. Poi domani nelle pagelle parleremo dei singoli, però per darvi l'idea, la dimensione del primo tempo che ha fatto la Juve. Quindi questa squadra non è una squadra che non le sa fare queste cose. Che ha dei limiti, sì, ma non è vero che non le sa fare. Ok? Il secondo tempo si è spenta. Danilo mi ha detto che, mi ha detto, l'ha detto Adazon, che secondo lui è una cosa psicologica. Allegri mi parla degli ultimi 15 minuti fatti male e mi va a giustificare il tutto dicendo che ha sbagliato i cambi perché probabilmente in quel momento con la partita in mano non devi prendere gol perché sei in totale controllo e forse i cambi erano da fare più difensivi. Io non sono, anzi, io sono uno che preferisce non prendere gol. A me piace più vincere 1-0 che 2-1 proprio perché non prendo gol. Ma forse in questo momento questa Juventus qua, Max, è senza il forse perché è una certezza. Non è la Juventus che ha allenato te il primo anno, il secondo anno, il terzo anno, il quarto anno, il quinto anno. Dice una cosa bellissima l'altro giorno Allegri invece in conferenza stampa a Premilan. Questa è una Juve diversa dalle altre. E come vi dicevo nel video in preparazione alla partita, Allegri non mi ha ancora mai detto che l'Aventus sia una squadra forte. Ha detto che è una Juve diversa. Cazzo se è vero. È una Juve diversa. Perché non è una Juve in grado di dominare le partite o comunque di gestire le partite come si faceva una volta. Ora bisogna arrivarci in un altro modo. E quell'altro modo è cercando di fare più gol. Perché la lettura di Allegri sul Eh, guarda, non dovevamo prendere gol. Banalmente. Ti dico che una squadra che sta mantenendo la partita e dominando la partita allora ne può fare uno in più. E può andare sul 2-0. Perché se sei sul 2-0 e per sfiga Rebic sul calcio d'angolo ti fa il 2-1. Sì, il 2-1. Eh, vabbè, non hai comunque perso. E nemmeno pareggiato. Anzi, hai vinto e sei andato a portarti a casa i tuoi primi tre punti. Questa Juve, poi che si spegne, perché? Perché? Boh, io dico che è una roba fisica. Io dico che è un discorso fisico. Che non c'è più benzina. Che è stata fatta una preparazione che in questo momento non ti dà benzina. E mi auguro che sia così, perché è una cosa che puoi sistemare. Perché ti basta semplicemente entrare in forma, in condizione. Se è una cosa psicologica, come dice Danilo, hai, è più complicato, è più difficile, c'è da lavorare di più e c'è da trovare una strada alternativa. Se è un discorso di squadra, come dice Allegri, che ancora non ha la voglia e il mordente di vincere certe partite, quella voglia e quel mordente sono, rispondo al nome e il cognome, di Federico Chiese e Matthijs de Ritt. Che ve lo torno a ribadire. In una squadra come questa Juve, che è la più scarsa probabilmente degli ultimi dieci anni, ma che può e secondo me arriverà in Champions League, quindi nelle prime quattro, non può permettersi di non far giocare Chiesa ed Elite. Domani faremo le pagelle, sarà una roba più dettagliata, assolutamente, andrò a parlare dei singoli giocatori, perché è giusto che sia così. Ma non potevo assolutamente, no, 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 non potevo andare a letto senza avervi detto questa cosa. Quindi io adoro gestire le partite a livello difensivo, io adoro non prendere gol. Ma questa squadra non è pronta adesso per quella roba lì, e forse non lo sarà nemmeno a fine anno. Quindi vorrei trovare la strada alternativa. E la strada alternativa è quella di fare più gol. E per fare più gol bisogna fregarsene in questo momento dei risultati, perché già adesso i risultati non stanno arrivando. e se ha ragione Danilo ed è una roba di testa, la testa la liberi iniziando a fare delle vittorie e fatte bene. E i primi tempi di queste partite ci stanno dimostrando che la Juve lo può fare. Deve solo continuare. E se qua poi torna in gioco il discorso atletico, che spero che possa essere risolto da degli allenamenti mirati.